Leonardo Silva Revisore Che cosa lega una disputa tra pastori e contadini in Nigeria e una barca a largo delle nostre coste? C'è una relazione tra l'invasione russa dell'Ucraina e una persona che decide di smettere di andare a lavoro in automobile? E c'è un nesso tra queste cose il futuro delle nostre città? Io credo di sì. Ma per farlo dobbiamo guardare alle crepe del nostro tempo in modo diverso. Ancora crepe. Discuteremo del motivo per il quale queste sono fondamentali, guarderemo il filo rosso che lega quelle degli individui, quelle delle nostre comunità e quelle della storia, per cercare di capire anche come arrivare a una soluzione. E vi chiedo di farlo insieme perché avrò bisogno del vostro aiuto. Ma andiamo con ordine. Partiamo dagli individui. E vi chiedo un po' di pazienza se parlerò di me. La creva che ha prodotto delle decisioni tra le più importanti nella mia vita è quella che è separata tra me e la mia comunità. Oggi lavoro in diplomazia e mi capita di viaggiare molto, ma il viaggio più importante della mia vita l'ho fatto partendo da questo posto, dalla stazione di treni di Messina, il settembre del 2006. Fino a quel momento ero convinto che avrei passato la maggior parte della mia vita non lontano da dove sono nato. Dopotutto ero e sono ancora legato, come molti di noi, alla mia famiglia, ai miei affetti e ai miei luoghi. Ma una rapida serie di eventi mi ha fatto cambiare idea. Da ragazzo avevo conosciuto il lato meno nobile della nostra politica, avevo trovato una certa reticenza a discutere come alcuni grandi temi ci impattassero direttamente e più in generale faticavo a trovare dei canali per approcciare queste questioni in maniera pragmatica, con progettualità e che mi permettesse di sudarci sopra con altre persone. Questo bisogno era forse più importante in quel particolare momento storico. Era il momento della maturazione politica della mia generazione dopo il G8 di Genova, l'attentato delle torri di Gimene di New York e l'invasione dell'Iraq due anni dopo. È in quel contesto che si è aperta la mia crepa individuale. E andiamo alle comunità. In quel momento tutta la mia generazione faceva una certa fatica a impegnarsi su questi grandi temi. Rispetto alla narrazione collettiva, che un po' parlava di un mondo che quasi non c'era più, le risposte che venivano dalla politica erano anche ancora legate a delle categorie che non riuscivano a interpretare quella particolare cesura storica, stava crescendo la distanza fra noi e quella società. Ora, in effetti, non era molto semplice interpretare quel passaggio storico. Se riguardiamo indietro, sembra di parlare di un'altra epoca. Dopo 24 anni di sudore e finali, l'Italia vinceva di nuovo la Coppa del Mondo. Fabio Gross era diventato un eroe nazionale. Il World Economic Forum, uno dei principali luoghi di discussione dell'economia mondiale, si riuniva in un clima relativamente ottimistico, guardando ancora alla crescita strepitosa della Cina e dell'India. L'Unione Europea era passata da 15 a 25 paesi, e un fenomeno come la Brexit sembrava pura fantascienza. Non si parlava ancora tanto di cambiamento climatico, e questa cosa rimaneva per lo più appannaggio delle comunità scientifiche. Tuttavia, in quel passaggio, si percepiva già che lo scolamento della mia generazione presagiva qualcosa di diverso a avvenire. Nei cinque anni successivi, il nostro mondo è stato travolto da una successione di crisi economiche e finanziarie che hanno cambiato il volto del nostro mondo in quel momento. In Italia, lo scivolamento del pile corrisposta all'aumento della povertà assoluta, con una pressione diretta sulla spesa sociale e sull'impiego. La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere, diceva Gramsci. E in quella fase, la crisi fu effettivamente un freno per una generazione intera. Se pensiamo, per esempio, alla città di Messina, soprattutto al sud, pensiamo alla città di Messina. Nei quindici anni dopo la crisi sono andate via oltre 20.000 persone, soprattutto giovani in età lavorativa. Sono numeri da guerra. Ma la crisi ha avuto anche un altro effetto, più difficile da identificare, ma delle conseguenze molto profonde. La crisi ha avvicinato il nostro orizzonte, ci ha costretto all'urgente, al qui e ora, a scapito del domani. E questo ha delle conseguenze profonde. Prendiamo, per esempio, ancora Messina e tutta la Sicilia, terre di frontiere e migrazioni da quando esiste la civiltà. Per tutti gli anni della cosiddetta crisi migratoria, i nostri territori si sono occupati su come sostanzialmente gestire gli sbarchi e non guardare alle cause profonde che spingono a questi viaggi della disperazione, anche per trovare dei modi per gestire un fenomeno millenario come le migrazioni. Ma se guardiamo al nostro passato, non è stato sempre così. E possiamo ritrovare degli esempi in cui, proprio quando abbiamo spinto l'orizzonte in avanti, abbiamo portato le nostre società avanti di conseguenza. Restiamo ancora su Messina. Tre casi dal nostro passato. Uno. Primo settembre 1847. È proprio da Messina che partirono alcuni dei più importanti modi rivoluzionali di 1800. La frattura di Messina ha aperto una crepa nel controllo della monarchia borbonica che si faceva via via più repressiva. E quando questa contagiò Palermo, Messina fu uno dei fronti principali. Ora, questa è anche una storia di grande sacrificio. Ma senza quel gesto, senza i modi risorgimentali, avremmo continuato a vivere sotto la stessa repressione. Due. 1955. L'Europa sta ripartendo dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. In quel contesto, sotto il peso di milioni di vittime, sembrava impensabile che francesi e tedeschi, italiani e belgi, lussemburghesi e olandesi mettessero da parte secoli di guerre e violenze per lanciare un progetto di cooperazione e pacificazione a tratto utopistico. Ma è proprio nel giugno del 1955 a Messina che si gettano le basi della Comunità Europea dell'energia atomica e di quello che due anni dopo sarebbe stato conosciuto come mercato comune europeo. Sono le fondamenta dell'Unione Europea che abbiamo ritirato noi oggi, nata anche per l'insistenza del messinese Caetano Martino, che aveva raccolto l'entusiasmo della città di Messina e dei messinesi per gli ideali e i valori dei padri fondatori dell'Unione Europea. La terza storia non avviene a Messina, ma a New York, per le mani di un illustre messinese. 1998. L'ambasciatore Francesco Paolo Fulci è il nostro più importante diplomatico alle Nazioni Unite. Iniziano ad emergere dei progetti di riforma del Consiglio di Sicurezza, il suo organo più importante. Per misurarsi col potere dei membri permanenti del Consiglio, Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e Gran Bretagna, l'ambasciatore Fulci si fa portatore di una visione volta ad allargare e in parte democratizzare il Consiglio di Sicurezza. A parte i tecnicismi, questa è ancora oggi una delle correnti principali per la riforma delle Nazioni Unite e della nostra governanza globale. Ora, questi tre casi non devono esserci di conforto, ma servono a ricordarci come c'è stata una moltitudine di comunità, di gruppi e di individui che hanno spostato l'orizzonte in avanti anche partendo da una ridefinizione dei bisogni delle proprie comunità. E qui arriviamo al terzo livello, alla terza frattura, che è quella del tornante della storia che stiamo attraversando oggi. Le grandi crisi del nostro tempo ci impongono di guardare alle conseguenze dei grandi fenomeni globali. Prendiamo le più importanti di questi anni. Uno, la pandemia. Un virus si propaga a tutti gli angoli del mondo con conseguenze fatali. La pandemia ci ha ricordato che l'interdipendenza ha anche degli effetti negativi. E quando non fatali, questo ha il potere di tenere le nostre vite sotto scacco, di mettere a repentaglio il nostro sistema di convivenza e di cambiare le nostre priorità. Due, il clima. Abbiamo appena chiuso il decennio più caldo da quando registriamo le temperature mondiali. Da sempre. La crisi climatica è la nostra vera urgenza e dobbiamo immediatamente cambiare il nostro sistema produttivo per passare a un'organizzazione che ci permetta di avere un impatto zero, sostanzialmente. E non possiamo più perdere tempo. Terzo, la guerra. L'invasione russa dell'Ucraina ha causato gravissime sofferenze tra i civili. Ha provocato una delle più macroscopiche violazioni del diritto internazionale e ha anche sovvertito l'ordine di sicurezza europeo, facendoci svegliare in un continente molto più insicuro. Ho preso queste foto a Borodianca, a 50 km a ovest di Kiev. Come possiamo misurarci con una potenza che non si fa scrupoli ad utilizzare la forza per avanzare i propri obiettivi di politica estera? Possiamo sovvertire, anzi, possiamo costruire la pace senza sovvertire i rapporti di forza in questo conflitto? E soprattutto, possiamo continuare a dare assoluta priorità alle nostre preoccupazioni domestiche quando anche noi ne sentiamo le conseguenze dirette in termini di sicurezza, di energia, di costo del cibo e delle materie prime? La risposta, ovviamente, è no. E questa è la crepa che si apre a livello globale. Ora, dopo tutta questa successione di fatti allegri, vi sembrerà strano che io stia per dire una cosa del genere. Io credo che tutte queste crisi ci consegnino, invece, uno scenario in cui possiamo ricominciare ad essere ottimisti. Tutte queste crisi che mostrano come dobbiamo impegnarci sulle conseguenze profonde, scusate, sulle cause profonde e non sulle conseguenze di questi fenomeni, ci dimostra che le piccole toppe di urgenza non sono sufficienti. Ci impongono di ricominciare a progettare. Never let a good crisis go to waste. Non sprecare mai una buona crisi, diceva Churchill. E non lo dobbiamo fare. Io penso anche sfruttando il massimo della nostra creatività in momenti difficili. Ora, dal mio punto di vista, oltre la crisi climatica per la quale mi auguro non servano ulteriori incoraggiamenti, voglio segnalare tre cose. La prima, ancora la guerra. Oltre l'invasione russa dell'Ucraina, ci c'era un problema altrettanto grande. Il numero di morti per violenza organizzata nell'anno precedente all'invasione è stato di 120.000 in un anno, il 46% superiore all'anno precedente. Per cinque anni ho lavorato all'International Crisis Group, un'organizzazione che si occupa di prevenzione dei conflitti. Allora ripetevo spesso, prevenire una crisi è molto più efficiente che doverla gestire quando la violenza esplosa, sia perché costa un numero inferiore di vite, sia perché costa di meno. Ma le priorità dei governi, le urgenze in certi momenti, legate soprattutto a priorità domestiche, non consentono di lavorare a questo approccio della prevenzione dei conflitti in maniera sempre efficiente. A volte era anche una questione di avere, in senso comune tra di noi, la percezione chiara del rischio. Prendo un esempio. Nel 2016 il cosiddetto Stato Islamico controllava la città di Sirte, in Libia. Sirte si trova alla stessa distanza dalla Sicilia che ci divide dalla Toscana. Ora capite che soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina non abbiamo più alibi. La prevenzione dei conflitti è uno dei più grandi investimenti che possiamo fare sul nostro futuro. Secondo, il baricentro del potere mondiale si sposta sempre più a Oriente, grazie alla continua scesa della Cina. Questo fenomeno ci obbliga a rispondere urgentemente ad alcune domande, soprattutto se vogliamo che il domani somigli un po' di più alla versione ideale che abbiamo in mente. Come porci davanti una potenza che non condivide i nostri valori, soprattutto quando si parla di democrazia, di libertà individuali e di diritti umani? A un sistema economico che si pone in alternativa a quello che ha garantito la nostra ricchezza? Ha una potenza, e possibilmente altre potenze emergenti, che potrebbero decidere ancora di avanzare i propri interessi sempre con l'uso della forza. E quindi, terzo, l'Europa. Tutte le sfide di cui ho parlato sono troppo grandi per un paese solo. Ma negli anni della crisi il nostro rapporto con l'Europa si è complicato particolarmente. Sia per la gestione delle crisi passate, sia per la tendenza un po' più abusata di rendere l'Unione Europea sempre un capo espiatorio. Ma nel mondo che vogliamo progettare è la dimensione europea quella che può integrare e rappresentare tutti i nostri valori. E quindi abbiamo un interesse primario nel far sì che lo sviluppo dell'integrazione europea risponde in maniera più chiara ai nostri bisogni. Questo non vuol dire accettare o assecondare qualunque progetto, purché sia europeo, ma impegnarci in maniera critica facendo emergere una visione dal territorio. E fare emergere una visione dal territorio significa anche trasformare i nostri bisogni e le nostre visioni in una domanda politica. E qui vengo al punto. E questo riguarda non solo me, ma tutti noi dentro e fuori il palco. Se noi per primi non siamo in grado di definire con chiarezza quali sono i nostri bisogni e anche che importanza hanno per noi questi temi globali, come possiamo aspettarci che i governi e la politica non si concentrino su questioni di breve termine? Soprattutto dopo l'esplosione di internet e social media la comunicazione immediata ha anche cambiato il tempo della politica. A volte i governi devono occuparsi di conseguenze dei grandi temi per ragioni immediate e hanno meno spazio per lavorare alle cause profonde. Hanno meno opportunità di farlo. Ma Kissinger ci ricordava una cosa. Quando è nata una crisi, la passività non fa altro che accrescere l'impotenza. E questa è la ragione per cui vi chiedo aiuto. Io credo che per rispondere alle nostre domande la dimensione migliore sia quella delle comunità. Ma senza una presa di coscienza individuale non si va da nessuna parte. È qualcosa che vedo anche io nel mio lavoro. Possiamo lavorare quanto vogliamo sui grandi temi, ma se alcune urgenze contingenti sostenute da tutta la popolazione cambiano il nostro orizzonte, dobbiamo cambiare anche il nostro modo di valutare le nostre decisioni di conseguenza. Aiutateci a riportare l'orizzonte in avanti. Come possiamo farlo allora? Partiamo da tre modi semplici. Primo, costruite e proteggete spazi di confronto e di elaborazione. Parlate nelle università, nei circoli, nelle assemblee, parlate nei partiti, fatelo online, ma chiedetevi grandi domande. Come possiamo cambiare il nostro sistema produttivo per mantenere la barra dritta sulla crisi climatica? Quali valori e quali interessi vogliamo proteggere? Che ruolo ha, per esempio, il commercio con un paese che viola i diritti umani? O meglio, dobbiamo dare la priorità alla tutela del lavoro alimentare o a recuperare terreno sulla produzione di materiali critici per la tecnologia di domani? Secondo, ordinate queste questioni secondo quelle che hanno più valore e importanza per le vostre comunità. Ora, io ho parlato di quelle che ritengo fondamentali, ma non c'è una lista universale. L'importante è che questo sia fatto in maniera strutturata, approfondita e che abbia una conclusione operativa e concreta. Terzo, anzi, prendete queste conclusioni e mettetele in mano ai vostri referenti politici. Confrontateli, invitateli, parlate con loro, impegnatevi e fate in modo che le conclusioni che potete raggiungere insieme diventino parte della loro comunicazione politica e dei programmi di governo. Questo è un modo per ridurre la distanza tra governanti e governati e quindi migliorare la qualità della nostra democrazia. Ma il mio punto è un altro e voglio concludere da dove sono partito. Fare questo offre una speranza a tutte le persone che altrimenti andrebbero in altri luoghi dove possono pensare di sviluppare un'idea diversa di futuro. Fare questo significa offrire una speranza a quelle persone che, come quando si è aperta la mia crepa, partono da questa stazione per soddisfare un bisogno, per rispondere a un bisogno e non soltanto alle loro aspirazioni. Compiere queste azioni e rimettere tutti questi da salire al nostro orizzonte significa dare una speranza a quella persona, significa dare una speranza alle nostre comunità e poi aiutarci a trovare anche una speranza migliore per il futuro. Grazie.